Ecco qui il nuovo Motorola Moto G53 La prima cosa che notiamo è che effettivamente per quanto riguarda l'estetica e il design rispetto al modello dell'anno scorso, beh, c'è stato un upgrade e c'è una notevole differenza Tuttavia c'è da dire che nessuno è perfetto e a questo giro secondo me Motorola ha fatto un piccolo errore con questo modello Nel senso che non c'è stato un reale upgrade rispetto all'anno scorso Anzi, forse, mi sento di dire già a inizio recensione, io mi sento di consigliarvi ancora il modello dell'anno passato rispetto a lui Il perché? Beh, lo scopriamo subito dopo la sigla Ciao amici di Tecconandroid, benvenuti e bentornati in questa nuova video recensione Come detto poco fa, oggi parleremo di lui, ovvero il nuovo Motorola Moto G53 Effettivamente esteticamente molto bello, ma iniziamo subito con la recensione E spieghiamo perché secondo me ha fatto un piccolo errore Motorola Esteticamente mi sento di dire che è veramente fatto bene questo Motorola Moto G53 A me piace molto, per carità non è nulla di originale o qualcosa che non abbiamo mai visto Però è fatto bene, ripeto, soprattutto rispecchia quelli che sono gli standard moderni Perché tutti i dispositivi che sto provando e che stiamo provando nell'ultimo periodo Ormai hanno questo frame squadrato, più stile mattoncino, diciamo un po' più stile iPhone Che magari sta diventando la moda principale di quest'anno Rispetto ai dispositivi dell'anno scorso che la maggior parte ancora avevano il frame rotondo Tuttavia lui pesa circa 183 grammi, quindi abbastanza leggero, si tiene bene in mano È ben equilibrato, quindi mi piace davvero tanto La scocca tiene questo rivestimento opaco, quindi è anti scivola Ma soprattutto è antimacchia, non trattiene le ditate È sempre facile da tenere pulita la cover E poi come possiamo vedere ci sono i due sensori del comparto fotografico Ma vi parlo di loro più avanti Procedendo possiamo vedere il display A proposito, il sensore per lo sblocco è qui a destra Dove c'è il tasto di accensione e spegnimento dello smartphone Se avete la mano piccola come me magari è un po' difficile da raggiungere Per tenerlo saldo dovreste spostarlo un po' in basso E quindi andrete a perdere la presa diciamo sulla parte bassa Andando a sbloccare lo schermo possiamo scoprire questo display da 6,5 pollici Purtroppo abbiamo perso il pannello AMOLED che tenevamo sul modello G52 dell'anno passato Per avere un IPS però con una risoluzione HD+, neanche full HD+, peccato Infatti magari quando zoomate alcune foto o in alcune app insomma Se andate in grandi delle immagini sono più pixelate del normale Però è un schermo abbastanza fluido con un refresh rate a 120 Hz Che per carità rispetto ai 90 Hz del passato sono di più Sì ma su un dispositivo di questa fascia di prezzo non è un top di gamma Sarebbe stato meglio conservare uno schermo AMOLED o una risoluzione maggiore Rispetto ad avere i 120 Hz per un pannello del genere Infatti anche gli angoli di visione non sono ottimali E poi essendo un IPS insomma i neri non sono profondi E tutto quello che già sappiamo a riguardo Quindi diciamo purtroppo un downgrade per quanto riguarda lato display La luminosità comunque non è male Nel senso che anche di giorno sotto i raggi diretti del sole Non ha avuto grosse difficoltà se paragonato ai suoi competitor Per completare comunque il comparto multimediale C'è da dire che qui l'audio è stereo firmato by Dolby Atmos Non so se si riesce a leggere qua sopra c'è la firma Ed effettivamente per questa fascia di prezzo Trovare un audio stereo con questa qualità è veramente molto buono Quindi qua rientriamo in quelli che sono gli standard Motorola Che ci ha abituato a vedere sui suoi dispositivi Vi faccio ascoltare velocemente un audio Quindi veramente peccato perché il display anche se super fluido come potete vedere Non è ai livelli del comparto audio e quindi questo è un piccolo punto in meno Se voi utilizzate lo smartphone soprattutto per riprodurre i vostri contenuti audiovisivi preferiti E per chi fosse interessato sulla parte inferiore potete trovare un jack da 3,5 mm Per poter andare a collegare le vostre cuffie Parlando di prestazioni invece sotto al telaio del Motorola Moto G53 troviamo lo Snapdragon 480 Plus 5G Quindi ecco l'upgrade rispetto all'anno scorso che era un device solo 4G Questo è un processore octa-core 8NM con clock a 2.20 GHz La GPU è la Drano 619 Abbiamo 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno UFS 2.0 Che è espandibile fino ad 1 TB tramite la micro SD che potete andare a inserire nello slot SIM Per quanto riguarda le prestazioni tenendo presente anche la fascia di prezzo su cui ci troviamo Non mi sento di lamentarmi Sono perfettamente in linea appunto con questa categoria Non è un fulmine ma vi consente di navigare sul web O di navigare all'interno delle vostre piattaforme social senza alcun problema I problemi possono nascere se tenete aperte molte ma molte app insieme Ovviamente però con questo comparto hardware è più che normale Quindi va bene per giochi arcade e se non necessitate di stressarlo molto Il dispositivo non vi darà problemi Ottima la batteria da 5000 mAh Ottimizzata perfettamente su questo dispositivo Ma comunque è già un device diciamo che di per sé non è molto assetato E quindi qua l'autonomia vi consente di arrivare fin troppo facilmente a fine giornata E lo potete utilizzare nella maggior parte dei casi anche per un giorno e mezzo Se non due giorni se proprio avete un consumo diciamo così un utilizzo minimo del dispositivo Per quanto riguarda la parte del software che mi sento dire uno dei punti forza dei dispositivi di casa Motorola Per fortuna nessuna brutta sorpresa per questo Il dispositivo è aggiornato con tutte le patch ultime di Android 13 La grafica, lo stile e quella classica a cui ci ha abituati Motorola Abbiamo comunque una certa e una discreta personalizzazione dell'intero smartphone Nonostante il punto di forza di questa skin chiamiamola così E' proprio il fatto che sia molto leggera Priva di molte app preinstallate anche se a questo giro rispetto ad altri modelli che ho provato Due o tre app in più installate di base le ho trovate Ma nulla di grave perché continua ad essere molto fluida, molto gestibile Graficamente se vi piace lo stile minimal, moderno, con colori pastello Beh, questo software è perfetto per le vostre esigenze Prima di arrivare alle conclusioni però parliamo del comparto fotografico Perché qui c'è stata una piccola brutta sorpresa Perché quando voi vedete la parte posteriore Vedendo due obiettivi di cui la camera principale da 50 megapixel Io ma così tanti altri colleghi e persone a cui ho mostrato anche il dispositivo Hanno pensato che la seconda camera fosse grandangolare Invece non è così perché in realtà questo non è una grandangolare Ma una camera macro da 2 megapixel Dire che è inutile penso sia riduttivo Ma attenzione non è inutile solo su questo smartphone Una cosa di cui mi lamento su tutti i smartphone Se devi scegliere fra due camere principali metti una grandangolare Anche se ha una risoluzione inferiore magari a quella principale Perché qui la camera principale ripeto 50 megapixel E fra poco vi farò vedere fa anche foto discrete e buone in condizioni di luce E tuttavia una grandangolare in tante situazioni può essere utile Se si fanno foto di gruppo in una stanza stretta Si vogliono prendere più persone Fa niente la qualità inferiore ma almeno portata a casa lo scatto diciamo così La camera macro invece è in tanti casi quella principale Come potete vedere anche da qua Si ottene un risultato molto migliore rispetto a quella macro Che qua ripeto 2 megapixel Anche se si è vera una messa a fuoco molto più ravvicinata Le immagini presentano molto più rumore rispetto alla principale E quindi andiamo appunto parlando della camera principale Che in condizioni di luce è veramente ottima Anche l'HDR, le foto contro luce mi sono piaciute Perché su un dispositivo del genere veramente niente niente male Il discorso cambia di sera Quando appunto non c'è illuminazione anche se utilizzate la modalità dedicata Purtroppo le foto cacciano molto molto rumore Sicuramente non aiuta neanche questo dispositivo con una risoluzione così bassa Ripeto è un pannello HD+, magari le stesse foto viste sul computer Un altro dispositivo potrebbero anche risultare migliori Lo stesso mi sento dire per la camera selfie Di giorno va molto bene Di sera troppo diciamo non raggiunge la sufficienza E come detto prima potete vedere anche da queste foto La camera principale ha un risultato molto migliore rispetto alla camera macro Anche qui troviamo la feature moderna della ripresa con doppia camera Quindi poter sfruttare contemporaneamente sia la camera principale che la camera selfie Ed eccoci giunti alle conclusioni sul Motorola Moto G53 Lo potete acquistare ad un prezzo di 249,90€ Un prezzo effettivamente non alto Soprattutto se teniamo conto del periodo storico che stiamo vivendo E quindi anche del prezzo dei suoi competitor Tuttavia c'è da dire che il modello dell'anno passato Lo potete acquistare ad un prezzo inferiore di 50€ A volte anche di 70€ Quindi lo potete portare a casa con 200€ circa E quindi per tutto quello che abbiamo visto all'interno della recensione Il Moto G52 dell'anno scorso è ancora un dispositivo molto allettante Ma soprattutto ci sentiamo di consigliarlo invece del nuovo arrivato G53 Diciamo che quello che offre in più questo device Che è importante è il modulo 5G Però fare un acquisto del genere basato solo su questo Non so quanto può avere senso Tuttavia giunti a questo punto Ora fateci sapere voi cosa ne pensate Del nuovo Motorola Moto G53 E come al solito se avete dubbi, domande, curiosità o perplessità Fateci sapere qua sotto nei commenti Diteci anche la vostra E noi ci vediamo con la prossima video recensione Grazie a tutti